Dio aveva creato un mondo bellissimo, ma gli uomini non erano più buoni e facevano la guerra. Solo Noè era rimasto buono. Dio lo chiamò e gli disse di costruire un'arca. Gli altri uomini non capivano a cosa servisse. Noè la caricò con tanto cibo. Poi fece salire i suoi figli e le loro mogli. Quindi tutti gli animali, una coppia per ciascuna specie. Intanto delle nuvole nere apparvero nel cielo. Noè spinse dentro gli ultimi animali rimasti e si affrettò a chiudere. Cominciò a piovere molto forte, per quaranta giorni e quaranta notti. Nell'arca tutti erano al sicuro e i giorni passavano. Tanti giorni, finalmente la pioggia cessò e Noè mandò fuori una colomba che tornò con un ramoscello di olivo nel vetro. Quando l'acqua si fu abbassata, l'arca si fermò in cima a una montagna. Noè ringraziò Dio che li aveva salvati. E Dio promise che non ci sarebbe mai più stato un altro riluvio e nel cielo apparve un bellissimo arcobaleno. Noè ringraziò Dio.